ciao a tutti buonasera bentrovati bentrovati scusate sono così con la tuta questa è una è un video registrato però vi dà la possibilità voi di salutarvi e di fare tante tantissimi saluti per tutti voi che vi volete bene come io vi sto salutando però saluta casimira mia un è che a me piace tanto la mettiamo così perfetto oggi oggi ho comprato i cornetti perché io i cornetti li compro non li faccio a discapito di giusto io sto parlando di qualche parente mia che magari li può fare io invece li compro i cornetti quelli che si mangiano ok li ho comprati vuoti li ho comprati vuoti perché mi hanno regalato un pistacchio manco posso dire pistacchio non lo posso dire mi hanno regalato un barattolo di pistacchio quindi a catto vacante così stasera li faccio li taglio e ci metto il pistacchio e io alle 11 ho i cornetti caldi capito come se tipo quasi usava da noi per chi sta nelle vicinanze qualcosa di scendere per andare a mangiare i cornetti caldi quando una mangiava tante cose a tavola poi veniva di sera verso prima di mezzanotte questo languorino e diceva andiamo a cornetti caldi e tutti dicevano io essendo cacciaio a cinca mille ruta non ci posso dire dico in questo ma cattavo io e stasera mi bruciano lì sapuitata un tofu inno all'essere troppo bello certamente non saranno come quelli che ci ha portato una mattinata a spoletto patricia la figlia di mamma paola che ci ha portato dei cornetti lei è pasticcera quindi si può permettere questo e altro non saranno quelli ma saranno pure buoni ok perché io da ora come mi insegnano l'amice mia e chi io gli amici quelli stette mi insegnano e ceccare non farmi mancare niente un cognetto mi va ma catto e mi faccio anzi stasera quando il forno farà io dirò uno al pistacchio per favore così esco il forno e mi piglio cavolo cavolo e lo mangio e lo mangio va bene alla faccia di chi dico io perché signori miei sti parenti come fanno i sprieggi capito se ne vanno a cornetta i tardi la notte loro e mi fanno sprieggiarmi e signori miei non vi preoccupate si dice che c'è qua si dice c'è più tempo che ha sasizza è un proverbio siciliano va bene quindi tutto qua dice ma tu ora poi metteranno scritti ma come li mangia che non ha i denti come verè come allora io volevo dire a queste mie cognatine che sono sempre che hanno sempre qualcosa da dire sì ho difficoltà nel parlare però vi posso dire che così in questo modo sapendo come ciancio ma chi è è una cosa assurda o una tracciatrice in bocca per ora ok dice ma non ha le mole un cognetto squaglia un balataro un balataro è sopra quasi dice balataro un balataro è chissù eppure chi non necessita noi non vi preoccupate su questo anzi farò anche un piccolo video se posso di questi cornetti caldi che sforneranno molto ma molto tardi dice che si sta buttando il freddo giusto quindi dobbiamo cercare noi di armarci di cose caldi e i cornetti sono caldi se perché se non esce non lo fulino su cavoli su cavoli questo tutto questo per loro che mi fanno spreggi per i cornetti vi immaginate voi che poi volevo dire a loro inutile che andate a mangiare i cornetti sapendole quanto ci ne facete io parlo meglio che mi sentite perché poi mio marito dice ah tu parli dei miei cognati tu parli delle mie sorelle non voglio manco sentire sapete soltanto caidu shasira cognette mia un ne ricca ok perché lui è quello che di mattina scende passa dal bar e si mangia ciambelle cornetti arancine tutte queste cose della rossicceria lui li va stasciando tutti senza mai che si è permesso di dire ce ne puoi tu uno a me mogliere e così è pur chi già c'è da lì in casa amara infatti stasera io ho cucinato una bella fredda di carne per me e il suo buono il panino il fumarone eh no signori miei dobbiamo guardarsi la nostra salute la nostra pelle che ha l'avuto per l'avuto non si pianta lo capisce soprattutto mio marito ok mi ha portato le uova oggi perché andò nelle sue sorelle e quindi loro li avevano fatti da poco le mie cognate cavoli erano su alla casa è l'unica cosa buona che sanno fare l'uova hai capito e quindi me li ha portati ma che so me ne manciamo me ne manciamo due alla cuoca alla cuoca si dice alla cuoca che erano spettacolari erano meravigliosi e questo io ce ne do atto alle mie cognate che fanno delle uova speciali e per fare delle uova speciali ci vogliono delle galline autentiche e quindi sucriscio io vedete io do atto su tutto e ringrazio tutto ok poi domani lui vuole fatto lo zabbaglione e peciottiedo in giù capito e peciottiedo e cercare lo zabbaglione hai capito ma vedi che cosa l'umano è un zabbaglione dice che lo vuole schiumoso secondo voi come ce lo farò io ditemi voi che mi conoscete bene come ce la fare ditemelo voi lo sapete e io sono contenta che lo sapete non lo voglio dire io comunque voglio dire che giorno dopo giorno sto sempre un po meglio però signori miei non vale stare meglio perché so che io giorno 10 c'ho l'altro intervento ok si ricomincia a punto e a capo ok che cosa sarà questo e quale chi si sta se ne andano a dire e poi vi sarà un piccolo problema ok perché poi loro diranno un lavicciù la pescatola un lavicciù la cosa loro questo diranno io già lo so ma non la lasciamo riparlare le persone signori lasciamo riparlare soprattutto le persone che io manco cioè ari anni con cirugno conferenza chi dà che venne a mangiare in te mia per natale quella mia cognata già si è messa di nuovo qui perché venne a spulporarmi tutte cose a mia ma io ci disse quattro parolazze ci disse se vedi le tue sorelle e io dà sì di me sapete sa dire che so che so che e quindi chi dà ci spulporodò tutte cose c'è a dire tutto di miseria sa a cui si inseravano un vizio e di parlare troppo e che si deve fare signori miei io più che dirvi sempre che naturalmente farò sempre di tutto per tenervi compagnia anche nelle mie situazioni più peggiori così ma io ve l'ho promesso ho detto non vi preoccupate perché qualcuno dice ma poi pipina quando avrà queste cose con i denti queste cose di qua a noi ci farà compagnia certo certo perché non sono va bene i denti che mi mancano a bloccarmi a farvi compagnia a voi ok e quindi signori miei camassare ok stasera c'ho bel minestrone caldo perché oggi ho fatto il riso con il burro perché il riso attuppa il burro stuppa quindi ho fatto il concario attuppa e stuppa attuppa e stuppa attuppa e stuppa è una cosa meravigliosa signori miei mangiare cose genuine cose così va bene poi ho comprato degli sparacelli l'altra volta erano più babbaluce tra sparacelli in tutte le foglie ci ho trovato tutte le babbaluce le lumache gli ho presi perché io sono così li ho presi c'è un pezzo di terreno e li ho messi nel terreno e lei deve vedere come camminano salgono capito fa nello cipaggio di mattina c'è uno che ha fatto le cornicchia più lunghe così così signori miei io quindi mi impressionavo pigliavo gli spalace dei cavi perché io sono così ora polpi sta cominciando a suonare di nuovo è passato ora polpi e se mi stai guardando il macchinista che passa da me innamorato di me perché ogni volta che passa suona si chiama polpio polpi polpo dove ti sei fatto il natale ti fa il santo stefano ricordati che c'hai una moglie bellissima dei figli bellissimi cerca di fare la persona seria a tanto a mia di coinetti tua dell'anno 20 24 non ne devo fare niente non sento neanche la mancanza picchi ma cattavo suggerate i cornetti ok quindi cerca di fare che devo che fare tu salta col tuo munghiere e soprattutto cerca di fare la persona seria polpo lo capisce tutto qua che da quando ho levato i tempi non mi chiama più perché prima chiamava diceva ciao tuttavia ci vediamo domani al bar ti offro i cornetti sicuramente così si vergogna che io mi presento così perché capito anzi dovrebbe essere contento perché così io mangio meno cornetti e lui dice mamma mia io c'ho la bocca in automatico per ora vedete questo è lo spazio io appoggio e tira mentre prima c'era la cosa dei denti che mi dava fastidio ora è come un banco ma la mia bocca qualsiasi tipo di mangiare c'ha poi e tira e mangio mamma mia stasera quel pistacchio lo devo mangiare tutto tutto veramente veramente però non devo dimenticare che quelli che c'ho sopra sono provvisorie impiccicate se do il morso così hai capito adesso non l'inzio coi netto io e n'essere coi netto e lavare i rienti e poi devo fare di nuovo e signori mia esperienze nella vita nella vita bisogna provare tutto io sto provando pure questo l'esperienza ma poi anche il modo di parlare mi è cambiato sono più fine l'avete visto prima ero con la s volgare s ora la s non mi è messo giù a bocca dall'alfabetico e quindi non fa niente mi faccio capire ok perfetto sono le persone che per ora non mi capiscono ma beh tutto qua nel senso dove vado a comprare le cose tutto qua ho perso un terno un numero di chiuso come che si dice il numero di chiuso che hanno chiuso fisse capito si riesce a 75 e che il mio costo 65 e chi dice che non ha sentito ora pigiare la scusa di niente mia e mi dice pietre è così va bene è così e va bene signori miei non vi preoccupare poi tra l'altro ora che dice che si butta un minuto che mi metto sinnecchiata un poco perché se no il re ne mi sacano e che già ora ci vuole puro chiuso che dopo che finiscono i denti con che hanno avuto la cosa aspetta che mi mettono la cosa ok tutto qua dice ma i denti costano dice chissà quanto costano chissà quanto sta spendendo che si sono fatte mia voi non lo dite che io li sto facendo con la muta ah non lo dite loro non lo devono sapere loro devono sapere io sto spendendo le mie cugnate io la sera se tu era per me anche i picchi tacchi mi facevo la dentina anche i picchi tacchi da per l'oriente ho capito mi metteva tutto il peccato a costretale in fila capito tutto qua e poi tutto su babbio ci deve finire accettone stamattina scendo per la spesa un picciutte giù oh ci sono ci va dice a toshuaro se no ti volevo dire che ti fissi cari di rienta a mia c'è toshuaro mi fissi cari di rienta ragazzino ma stasso che non sei altro rattene è così signori miei purtroppo si vive si vive di di persone che non si fanno gli affari propri quindi tutto qua ti pare che non mi accorgo che entro in salumeria entro in fila si 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 caccae si 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 caccae capito io parlo che voglio le cose dico 100 grammi di quello 50 grammi di quello e c'è cosa fuggire perché il mio parlare per ora è così ma ti pare che non li vedo queste cose però nel mentre che pagavo io la guardavo così e la si è fermata per un attimo certo continua perché non contiene e no se lei mi sta guardando in un modo continua e ci si fa correre guarda e no ma io non ridevo per lei non ti preoccupare che a quel tempo i renti teccare hanno pure a te non avere tutto il suo dubbio e poi sarò io a ridere con i miei il damoreo dice signora ci chiedo scusa accetto le scuse fammi lo sconto e non è successo niente e me lo vuoi cinque euro in pazzo che dobbiamo fare signori questo uso questa va bene birillo signori mie birillo non mi riconosce quando io parlo fa così perché mi vede così e c'è pare che io ci voglio rare molto secolo anche questo anche il mio cane non mi riconosce ma non fa niente signori miei non fa niente innanzitutto saluto tutti non so chi c'è nella chat non so chi questa è una registrata signori perché mi è molto difficile fare le dirette per ora va bene quindi è una registrata è come se fossi con voi quindi se non vi saluto per nome perché non so chi c'è non vi preoccupate tanto io vi vedo dopo ok l'importante che noi riusciamo a passare quel piccolo tempo insieme ok perché a me per l'altro piace tanto dare compagnia ok volevo ringraziare pure tutte quelle persone che mi scrivono in privato e signori e che mi dicono che veramente io ci tengo compagnia e che io sono quel coso che ecco stamattina per esempio con un video fatto oggi di mattina chi è che l'ha scritto giusi qualche altra persona hanno scritto la giornata stava per partire male però vedendo te c'è spuntato il sorriso ma queste cose a me non possono fare altro che piacere va bene non possono fare altro che piacere perché nel mio piccolo nel mio piccolo sapere che ci sono persone che magari passano il tempo guardandomi questa è una cosa che mi fa stare molto bene mi fa passare qualsiasi tipo di ruolo e mocca quindi questa è una cosa che veramente volevo dire a prescindere a tutti va bene a tutti quelli che stanno guardando questo video anche perché i video oggi sono più che anche io ogni tanto faccio così come casi zapping o telecomando ma anche io guardo video e certe volte ci sono dei video molto interessanti quello che però a volte ci sono dei video dove non si tiene la giusta compagnia come ce la teniamo noi perché noi è come veramente una grande famiglia che ci teniamo compagnia che parliamo ok voi mi rispondete io vi rispondo c'è un dialogo va bene ma è però sono contenta che io non posso essere in diretta sono scontenta che non posso essere in diretta ma sono contenta che sono per ora con voi lo stesso questo ne sono fiera e felicissima signora va bene tutto qua e va bene allora quanto durò questa premiere beviamo un pochettino se riesco a capire questa premiere arriviamo a 20 minuti a questa premiere manca qualche minutino va bene ok manca qualche minutino e sono contenta di averla fatta perché signori miei neanche questo neanche la forza ecco come voi state notando io neanche sono nella mia postazione ok perché la mia postazione per ora chissà è l'unico posto dove riesco a rilassarmi ok dove riesco a accontentiamoci per ora di questo fa tanto va bene quindi vi mando un grosso saluto una buonanotte a tutti voi una buona serata e poi naturalmente è la befana ormai domani è la befana spero che porti tanti belle bei dolcetti a tutti i bimbi ok a tutti 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 e che dire e che dire signori mie facciamo pure quest'altra festa e l'ultima festa dice l'epifania tutte le feste porta via già l'albero mia e via non so se vi ricordate questo quello era l'angolino dell'albero non c'è più vedete c'è solo babbo natale rimasto ma l'albero già il tuo cammarino ma non riguarda già da giorno 2 già da giorno 2 l'ho levato va bene perché io già quando già si sta per blindare il 31 io guardo l'albero capisci auguri io guardo l'albero ricorumane via che può lasciare ai 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 signori miei sono così sono fatta così c'è poco da fare va bene un bacio affettuoso naturalmente a tutti voi e mando pure un bacio a tutti i bimbi speriamo che avete tanti dolcetti ok la befana che cosa porta pure giocattoli speriamo qualche giocattolino qualcosa per tutti i bimbi del mondo naturalmente ok e che tutti noi esseri viventi possiamo stare sempre bene sempre perché salute prima di tutti per tutti senza escludere nessuno un bacione a tutti e una buona notte ciao